Rassegna stampa di giovedì 7 gennaio 2021, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, siamo in diretta, sono le 7 del mattino sul canale 17 del Digitale Terrestre e ovviamente anche sui nostri dispositivi e sulle nostre piattaforme. Allora andiamo a vedere adesso subito il santo del giorno, poi c'è una raccomandazione che vi devo fare immediatamente. Allora San Raimondo, il santo di oggi, il sole sorgerà alle 7.46, tramonterà alle 16.48 minuti. Allora la raccomandazione è quella di fare assolutamente attenzione al ghiaccio sulle strade, soprattutto se ci state seguendo in diretta alle 7 del mattino e state per uscire di casa. Le strade sono davvero completamente ghiacciate, quindi molta 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 attenzione, attenzione ai freni, attenzione a come vi muovete sia a piedi che con l'automobile. Intanto il tempo per oggi, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, qualche precipitazione e nevicata intorno ai 1000 metri ma solo sui Sibillini. Per la giornata di domani invece il peggioramento, l'8 di gennaio con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio maggiormente insistenti, abbondanti lungo la costa in esaurimento nel tardo pomeriggio. Il limite delle nevicate è attorno ai 500-600 metri e attenzione anche eventi moderati sulla costa. Per sabato il tempo ancora dalla tarda mattinata avrà precipitazioni, con il pomeriggio piovaschi sparsi soprattutto nel settore meridionale della regione, il limite delle nevicate è intorno ai 900-1000 metri. Poi insomma c'è un po' di aria fredda che partirà da nord, questo nei prossimi giorni, e nella giornata di domenica saranno possibili precipitazioni diffuse e anche nevose, quindi staremo a vedere ma vi daremo conto magari più nella giornata di sabato. Intanto a Pesaro c'è un milionario in più, dopo quello che ha vinto il milione di euro a Soria l'altro giorno. Da ieri c'è un altro milionario perché la Lotteria Italia ha regalato 5 milioni di euro ad una persona che a Pesaro ha acquistato il biglietto in centro città. Ora se è di Pesaro o era di passaggio non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai, però insomma è stato vinto a Pesaro il biglietto da 5 milioni della Lotteria Italia, di questo ovviamente parlano anche i giornali questa mattina, questa è la copertina del Carlino di Pesaro, l'edizione pesarese, vinti a Pesaro 5 milioni, venduto in città il biglietto più ricco della Lotteria Italia. Ma c'è la questione del Covid, anche se oggi siamo in zona gialla, quindi oggi e domani bar aperti fino alle 18, decessi, anche ristoranti, insomma si parla ancora di decessi, si parla di contagi, siamo ancora in una situazione poco bella. Comunque per quanto riguarda i decessi abbiamo superato come provincia quota 700, altre 8 persone sono morte ieri in provincia, siamo a 707 dall'inizio della pandemia, record di nuovi positivi 220. Poi la studentessa pesarese che scrive alla ministra Azzolina, lei risponde subito, una mail tra una ragazza che fa la quinta superiore, una maturanda e appunto la ministra. La ragazza, la studentessa la vedete in questa fotografia. Andiamo poi a vedere sempre dalla prima pagina del Carlino, lo sport con l'addio del DS della vispesero Crespina e i saluti, così finisce un'epoca e poi c'è una bella intervista a un 33enne fanese, si chiama Luigi Pilota Ryanair e lui dice e parla di un sogno che si è avverato, lo vedremo tra poco appunto nelle pagine interne. Il Corriere Adriatico invece, l'edizione di Pesaro, a proposito di volo, apre con questa notizia che ha già dato in anteprima e in esclusiva qualche giorno fa, ma ancora prima, qualche settimana fa, ovvero questa compagnia aerea tutta marchigiana. C'è il nome a quanto pare di questa compagnia, Kairos Air. Oggi ci sarà la firma dal notaio e quindi insomma sono decisamente a buon punto. Mentre i numeri, i numeri appesi per la zona gialla e qui il Corriere Adriatico questa mattina parla di una sorpresa che in effetti è tale perché in realtà si mettono a confronto due dati, quelli in possesso della Regione Marche e quelli che invece hanno al Ministero della Salute. E a confrontare questi dati pare che i dati delle Marche siano un po' più brutti rispetto a quelli che hanno al Ministero a Roma. Tant'è che per Roma le Marche sono allo 0,93. Parliamo del famigerato indice RT, l'indice di contagiosità. Quindi se siamo a 0,93 come dice e come ha il Ministero, la zona gialla nella prossima settimana sarebbe garantita. Se invece ha ragione la Regione con l'indice che invece ha superato anche se di poco l'uno, allora lì sono problemi, probabilmente saremmo in zona arancione. Comunque tutto questo lo sapremo tra 24 ore. Sempre dalla prima del Corriere si è spento l'imprenditore sacerdote e anche leader Don Pigini. Le Marche piangono Don Lamberto, aveva 97 anni, il prossimo 11 gennaio morto in ospedale a Civitanova. E poi sempre in breve i bimbi in classe e a scuola si pensa anche ai gazebo. Poi Confcommercio che picchia duro e dice per i ristoratori questo è un gioco al massacro. E Lotteria Italia ha un superpremio anche in città, a Pesaro. Poi sempre restando a Pesaro, danni alle auto per pochi soldi, rubata pure una mascherina griffata. Si parla di furti e vandalismi di notte nella zona del Pentagono, firme dei residenti per chiedere la videosorveglianza. Poi sul reddito di cittadinanza affano e zuffa tra gli alleati di governo. Andiamo subito a vedere allora le pagine interne. Partiamo tanto per così darci un po' la carica, sognare un po', sognare fa sempre bene. Lotteria Italia, anche se non sto sponsorizzando i giochi, sono contrario ai giochi e a tutte queste cose qua. Ma comunque questa è opinione personale. Lotteria Italia, la fortuna bacia a Pesaro, ma è anche la linea editoriale della televisione. Estraendo uno dei cinque superpremi, un biglietto vincente anche a Mondolfo, solo pochi giorni fa era stato vinto un milione a Soria, come vi ho detto all'inizio della rassegna stampa. Dunque, dopo il biglietto venduto a Soria di un milione, l'altra sera per Pesaro c'è un altro sogno che si realizza, ovvero questo superpremio da 5 milioni della Lotteria Italia. Poi i famosi premi di consolazione, il comune di Mondolfo per esempio è stato baciato in qualche modo dalla fortuna, insieme a quelli di Chiaravalle e d'Ancona, nell'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, con l'assegnazione di un premio minore da 10 mila euro. Insomma, a vederla sotto questo aspetto, possiamo dire che le marche hanno iniziato l'anno in modo fortunato. Intanto però vediamo e vedremo se ci sarà fortuna anche su un'altra questione che è molto più seria invece. Il balletto dell'RT Marche, titolo del Corriere per il Ministero, è a 0,93 chance dunque per la zona gialla. Ancora 24 ore, poi arriveranno i dati che chiariranno definitivamente il colore delle marche da lunedì prossimo e che dunque scioglieranno anche il rebus che tiene con il fiato sospeso la Regione. Cioè, se gli esperti locali sulla base dei dati a disposizione hanno ipotizzato uno scenario di indice di contagio tra lo 0,99 e l'1,1 nella serata di martedì, dal Ministero è arrivata la notizia, anche se non ufficiale, che questo indicatore dovrebbe invece assestarsi a 0,93. E capite che siccome è una questione di decimali, 0,93 certamente sarebbe un buon risultato che ci metterebbe al riparo. Più positivi però tra i ragazzi, perché poi c'è il problema anche del numero elevatissimo dei contagi che ancora ci sono anche nella provincia di Pesero Urbino. E come vedete dal titolo sono i ragazzi, i giovani, quelli che in questo momento stanno mettendo in difficoltà gli ospedali, le USCA, le guardie mediche. E tutto questo dopo le feste di Natale. I sanitari si attendono un aumento di paucci sintomatici, cioè quelli che hanno pochi sintomi, tra giovani e bambini. Anche i medici di famiglia sono sotto pressione, con un aumento di chiamate. Allora, vediamo cosa scrive Letizia Francesconi stamattina sul Corriere Adriatico. Solo nelle ultime settimane, osserva Dario Bartolucci, segretario provinciale Federazione Medici di Medicina Generale, il carico dei pazienti in questi ultimi giorni da gestire anche nell'entroterra, ha subito un incremento sensibile intorno al 25-30% in più. Sono diversi i colleghi, anche dell'Urbinate, che richiedono l'assistenza dei medici di continuità USCA per trattare i soli casi più complessi, mentre il resto spetta ai medici di famiglia. Poi, gli ultimi casi di visite in ambulatorio, commenta De Angelis, sono soprattutto giovani con sintomi lievi. Questo spiega perché l'aumento dei positivi in genere è contestualmente dei casi fra i nostri pazienti, resta interno al nucleo familiare o ai contatti stretti intercorsi proprio durante le feste. E il pronto soccorso invece di Marche Nord, del San Salvatore di Pesero, è ancora sotto pressione. È successo di nuovo ieri, a poco più di una settimana di distanza dagli ultimi casi di superafflusso e iperstazionamento dei malati per ore, una situazione che ha richiesto anche il supporto della medicina territoriale di area vasta. Intanto, come curiosità, se vogliamo, ve la possiamo dare attraverso il Corriere Adriatico di questa mattina che tiene sempre sotto controllo i vari comuni, i 220 passa comuni, 225, se non ricordo male, comuni 27, anzi 227 comuni delle Marche, ce n'è uno che in tutti questi dieci mesi, quasi un anno di pandemia, non ha mai registrato un caso di positività all'interno del comune. Chiaramente stiamo parlando di un comune molto piccolo, un comune che è incastonato tra le montagne. Volete sapere qual è? Il comune di Bolognola, dove tra l'altro c'è una bellissima pista da sci in queste ore completamente innevata, immacolata, sarebbe il caso di dire, che però è lì ferma, nessuno la può utilizzare. Bolognola, infatti, è l'unico comune senza mai un contagio. Poi ce ne sono altri 22 invece che lo sono stati, ma che adesso non lo sono più, sono 22. Mentre nella provincia di Ancona non c'è una zona franca immune dall'epidemia. Quindi ci sono tra le varie province alcuni piccoli paesi e qui c'è la mappa dei comuni ex-Covid, per esempio Rotella ad Ascoli Piceno, è uno dei paesi dei comuni dove c'è stato un caso di positività, ma adesso sono liberi. Nella provincia di Pesurbino invece abbiamo Monte Ciccardo, Frontino e Serra Sant'Abbondio. Poi se avete curiosità potete appunto sfogliare il Corriere Adriatico di questa mattina. Adesso invece c'è la notizia, sempre sul Corriere, sul futuro dell'aeroporto di Falconara, l'aeroporto delle Marche. C'è questa compagnia che oggi prenderà ufficialmente forma, perché si andrà dal notaio per la firma, che si doveva chiamare Adriavia, ma che in realtà in effetti non è il massimo della vita. Invece il Corriere dà l'anticipazione che potrebbe essere invece il nome di questa compagnia aerea marchigiana Kairos Air. Opposto a Kronos, il tempo che scorre, Kairos, che deriva dal greco, rappresenta il momento opportuno, l'istante decisivo. L'appuntamento ad Ancona è nello studio del notaio Stefano Sabatini, dove le previsioni accreditano un numero ristretto di futuri soci per le norme Covid, anche se la zona già l'autorizza gli spostamenti tra i comuni della stessa regione. Ma comunque adesso, al di là di questo, c'è questa notizia importante che riguarda appunto il debutto di questa nuova compagnia aerea, che è tutta marchigiana, fatta da imprenditori marchigiani, e che, secondo il business plan, prevede oggi l'attivazione della società. Nei prossimi mesi, l'inizio addirittura dell'attività, con due aerei AT-72, che voleranno con destinazioni Roma e Milano, avranno circa 50 assunzioni e prevedono, sempre dal business plan, 300 mila passeggeri l'anno. L'obiettivo poi sarà quello di arrivare a 10 aerei. Le quote richieste ai singoli imprenditori vanno da 100 mila euro per l'equity e 50 mila per la contingency. Insomma, va bene. Questo è poi dopo tutte le parti più particolari. Però è interessante, c'è questo articolo di Andrea Taffi questa mattina che vi invito a leggere. E a proposito di voli, a questo punto faccio un salto e vado sulla pagina di Fano del Resto del Cardino per segnalarvi questo articolo di Luigi Diotallevi. È una bella intervista, che io ho letto tutto interessante questa mattina, di questo giovane fanese che vedete nella fotografia, un 33enne, si chiama Luigi Alfredo Basagni, ed è dal febbraio 2011 pilota della Ryanair e dal 2016 comandante di inservizio allo scalo di Bologna. In questa intervista Luigi Alfredo Basagni parla di come si è appassionato al volo, di come la mamma nei primissimi giorni lo portò all'aeroporto di Fano per fare una passeggiata e evidentemente quel rumore, all'epoca erano molto attivi, l'aeroporto era molto attivo, evidentemente quel rumore gli è entrato dentro, gli è entrato nel cuore. Il fatto sta che il suo primo viaggio in aereo lo ha fatto all'età di circa 8-9 anni, su un Piper 28, e poi racconta di come si diventa piloti, di quali sono anche i sacrifici che occorre fare ogni giorno per fare questo lavoro. Sono andato a Forlì, dice, per frequentare il liceo, a 16 anni ho iniziato con la licenza di pilota privato. Ma c'è una cosa molto bella che mi ero appuntato, che però non ritrovo più adesso. Vabbè, peccato perché tutti avevano bisogno di una grande pressione, ok? Ecco, ecco qua, ecco qua, l'ho trovato. Allora, ve lo leggo perché può essere utile per tutti. Allora, che consiglio darebbe, chiede Diotr Levy ai giovani che volessero fare il pilota di aerei di linea. A tutti dico, risponde, di seguire il proprio sogno. Dovete pensare che un giorno riuscirete a raggiungere la meta perché fare un lavoro che vi rende felici non ha prezzo. Anche se ora il momento non sembra dei migliori, l'aviazione è sempre stata ciclica. Quindi prima o poi torneremo più forti di prima. Vi direi inoltre di vivere il mondo aeronautico a 360 gradi, di informarvi il più possibile, di andare magari a visitare una scuola di volo a Fano, poi ne cita una. E questo forse l'ho letto anche con molta invidia perché io che ho il terrore di prendere gli aerei e di volare, l'idea può essere stimolante questa intervista. Allora, torniamo un attimo indietro sulla nostra segna stampa per quanto riguarda i vaccini. Richiamo il 18 febbraio, questo è il titolo del Corriere, con Moderna basterà soltanto una dose, conferenza Stato-Regioni, in arrivo più personale per aumentare le somministrazioni. La maturanda scrive alla ministra Zolina questa non è scuola, mi ridia la speranza, mi ridia lei la speranza, dice. Lo sconforto di Lorenza, quinto anno del classico Raffaello di Urbino. L'onorevole le risponde subito, capisco, dice, il tuo stato ha d'animo. Questo è un piccolo spaccato di quello che è la lettera, un testo parziale della lettera della studentessa. Questa ragazza scrive, amo la scuola e proprio per questo le scrivo nel mio piccolo per condividere con lei la tristezza e il dispiacere dopo essere venuta a conoscenza di un ulteriore eslittamento della riapertura delle scuole superiori di secondo grado nella Regione Marche. Sapete, le Marche, insieme ad altre poche regioni, Veneto e quant'altro, hanno deciso di prolungare la chiusura fino alla fine di febbraio. Ancora una volta vedo crollare la mia speranza di poter tornare almeno in parte a vivere la scuola nella sua essenza, come lei sicuramente conosce. Adesso invece andiamo sulla pagina 5 del resto del Carlino perché nella cronaca di Ancona c'è una notizia con tanto di fotografie e anche qui possiamo utilizzare un po' la nostra fantasia e cercare anche un attimino per un istante di medesimarci. C'è una storia che racconta Silvia Santini che riguarda un giovane di Filottrano, siamo sempre nelle Marche, che però è costretto a fare la sua quarantena niente meno che nella giungla. E queste sono le fotografie che fanno capire più di ogni altra parola, insomma, in quale situazione, in quale contesto questo filottranese, Lorenzo Olivieri, è costretto a vivere, è costretto, tra virgolette, nella giungla di Panama, dove ha passato tre mesi in quarantena dopo l'esplosione della pandemia. E poi lui ha scritto chiaramente un libro, La mia quarantena nella giungla, dove cerca appunto di insegnarci una via differente, più umana per la vita. Andiamo adesso invece a pagina 9 del resto del Carlino, perché nelle Marche c'è questa morte, la morte di un imprenditore, ma che è stato anche sacerdote per oltre 70 anni. Stiamo parlando di un sacerdote che avrebbe, di un uomo che avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 11 gennaio, tra pochi giorni. Ed è morto però ieri pomeriggio Don Lamberto Pigini. Sabato mattina era stato ricoverato all'ospedale di Civitanova per un problema di salute dal quale purtroppo non si è più ripreso. Ieri pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. Fino a poco prima aveva ricevuto le telefonate come faceva praticamente ogni giorno. Chi era questo imprenditore e sacerdote? È uno che ha fondato tra l'altro anche insieme ad altri la Rainbow che fa i cartoni in mati, ma prima ancora la casa editrice Ellie, Rotopress, Tecnostampa, insomma uno che che ha fatto veramente tante cose nella nostra regione. Nel 2004 l'Università di Camerino gli aveva conferito la laurea honoris causa per meriti imprenditoriale. La camera ardente sarà allestita domani mattina alle 8.30 nel Duomo di Recanati mentre il funerale sarà sabato alle 9.30. La salma sarà tumulata nella Tomo di Famiglia a Castelfidardo accanto al fratello Oliviero e ai genitori. La pagina di Fano del Carlino variante nuovo studio per valutare i costi. Il tracciato Fano-Pesaro che attraversa il quartiere Digimar raffidato alla società Sintagma di Perugia ha un incarico di 50.000 euro. Poi attenzione per quanto riguarda il traffico per chi via va in autostrada c'è la chiusura del casello in uscita dell'A14 per coloro che provengono da Bologna dalle 23 di domani 8 alle 3 di sabato 9 gennaio consigliata l'uscita al casello di Pesaro chi viene ad Ancona invece può utilizzare l'uscita fanese senza problemi. Sapete che c'è stato un incidente quel camion che si è ribaltato dove è morto il camionista ha preso fuoco ovviamente l'incendio ha creato parecchi problemi anche all'asfalto eccetera quindi va rimessa in sicurezza tutta l'area e quindi l'autostrada quel tratto da Bologna per coloro che vengono da Bologna deve essere chiuso andiamo adesso invece chiuso il casello uscita l'autostrada per coloro che vengono da Bologna sì forse però questa è la parte di là forse non è non è quello allora il reddito orfano di lavori utili zuffa tra gli aleati di governo siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico si parla dell'indennità di cittadinanza tinti l'assessore contesta le carenze centralistiche del governo insorge il movimento 5 stelle scuole chiuse acquaroli non ha potenziato il trasporto locale ritorno in classe a febbraio il piedi fanese contro la regione violata la quarantena e in giro senza mascherina solamente 5 sanzioni combinate dalla polizia locale di Fano durante il periodo natalizio e mentre per quanto riguarda la pagina 13 del Corriere Adriatico sulla questione dei ristoranti dei ristoratori dei baristi dei bar che vengono chiusi puntualmente ogni volta che si diventa arancioni o rossi c'è Amerigo Varotti che interviene Amerigo Varotti della Confcommercio di Pesurbino che interviene dicendo ristoratori e non untori punite chi ha festeggiato la rabbia di Confcommercio per il perdurare delle misure restrittive verso le attività per Varotti l'aumento dei contagi dimostra come il settore si è ingiustamente colpito beh in effetti a questo punto direi che Varotti non ha tutti i torti insomma abbiamo visto che pur tenendo i bar e i ristoranti chiusi in questo caso come la provincia di Pesurbino stiamo pagando stiamo pagando insomma stiamo avendo un numero di contagi elevatissimo più di 200 con bar e ristoranti chiusi quindi significa che non è colpa dei ristoranti cioè non è nei ristoranti non è nei bar che ci si contagia è come abbiamo detto in famiglia perché comunque quando si esce e non necessariamente nei bar e nei ristoranti non si fa attenzione al distanziamento non si fa attenzione alle mascherine si sta comunque tutti assemblati in strada o in altri posti anche in casa e quindi questo è il risultato quindi non so se conviene continuare a penalizzare soltanto una categoria specifica come sono quelli dei baristi e dei ristoratori su questo bisognerà fare un'analisi un po' secondo me più seria auto danneggiate per pochi spiccioli rubata anche la mascherina griffata ci sono stati dei furti dei vandalismi nella zona del Pentagono siamo a Pesaro le firme dei residenti per chiedere anche le telecamere quindi la videosorveglianza poi l'assessore Belloni un assessore del Comune di Pesaro che è stato ingiuriato su Facebook ha vinto la causa o meglio non ha vinto la causa per ritirare la denuncia l'autore del posto offensivo contro di lui ha pagato 2.912 euro come richiesti dall'assessore per il ritiro della querela ora con quei soldi dice Belloni io quei soldi li darò ad una bambina disabile la madre della bimba che riceverà il girello ha inviato un messaggio di ringraziamento e poi andiamo a vedere la pagina di Vallefoglia con il nuovo comune nato dalla fusione Sasso Corvaro Auditore il decoro urbano addirittura peggiorato il comitato per il no chiede che fine abbiano fatto i 2 milioni arrivati il territorio è troppo esteso i problemi sono destinati ad aumentare per la manutenzione delle opere pubbliche e poi ancora da pagina 5 del resto del Carlino tamponi di massa per studenti e docenti il sindaco di Pesaro Ricci ha già individuato quattro postazioni saranno il campus l'alberghiero l'agrario e una scuola in centro la regione mette i test noi dice il sindaco metteremo i soldi per pagare il personale caccia ai medici e infermieri più riusciremo a trovarne e prima si fa se i vaccini i ragazzi li fanno in estate li teniamo lontani dalle aule fino ad allora dice Andrea Biancani poi Ruggeri insegnante e consigliera Marta Ruggeri è anche insegnante oltre a essere consigliera regionale dice è meglio evitare le fughe in avanti l'esponente pentastellata fanese dice Acquaroli doveva coordinarsi con il piano nazionale la buttiamo sulla politica non c'è tempo per il commento i vaccini a Fossombrone qui ancora non si sono mai visti il centro di stoccaggio è nella città di Fossombrone ma la casa di riposo che sta poco distante non sono mai arrivati ok poi per quanto riguarda invece la Valmetauro sparano i botti in spregio della zona rossa siamo sempre a Fossombrone e lasciano anche il degrado alla cittadella il cattivo esempio di Capodanno ripreso e stigmatizzato sui social occorre educare i giovani a scuola scuola che adesso è un miraggio tant'è che più del 30% addirittura ha deciso già di mollare la scuola perché non fare scuola in questo modo non e quindi ogni scusa è buona Sant'Ippolito ufficio postale esplode la protesta dei clienti la segnalazione dei residenti con l'inizio della pandemia l'apertura è stata dimezzata e da allora si va avanti così Urbino scontate o regalate il cibo invenduto appello degli esercenti dell'assessore Foschi ci sono applicazioni per offrire a prezzi ridotti gli alimenti di fine giornata qui c'è la ripresa del cibo invenduto finito tra i rifiuti poi sempre da Urbino Carlino esami si riparte ci saranno anche test dal vivo il prorettore della didattica Giovanni Bocciartieri dice permetteremo di fare prove scritte anche in presenza Senigallia Casopizzi la maggioranza fa quadrato Marcello Liverani l'importante è l'operato nei confronti dei cittadini e adesso lo sport mental coach all'alma Carletti è all'orizzonte mentre la vis saluta il suo DS si chiude così un altro ciclo ed è tutto grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a